numero 5 questo modello della prestigiosa linea e nel è perfetta per un inizio senza intoppi la sua impugnatura ergonomica vi permetterà di mantenerne il controllo anche quando vibra viene fornita con contraccolpo e freno a catena con una potenza di 2200 watt questa motosega si farà strada attraverso tutti i tipi di legno lo consigliamo anche per l'abbattimento di piccoli alberi tutti i suoi componenti sono ben assemblati numero 4 questa motosega della marca mecalec ha una potenza di 1,3 kilowatt è più che sufficiente per il giardinaggio e il fai da te ha un motore oxy power che vi permetterà di prendervi cura dell'ambiente mentre lavorate riducendo le emissioni dei gas anche se è piccola e un po compatta non sottovalutatela per quello che può fare è dotata di uno scomparto sul fondo della base per tenere tutti gli attrezzi a portata di mano numero 3 un marchio brillante come makita non poteva essere mancare nella nostra selezione questa fantastica motosega può essere utilizzata sia professionalmente che a livello amatoriale dato che ha una dimensione facile da maneggiare non dovrebbe essere un problema per voi usarla il suo motore ha una potenza di 1,35 kilowatt con una cilindrata di 32 cc per un taglio efficace è possibile regolare la pompa dell'olio che taglia la legna fino a 20 centimetri numero 2 ecco la sega elettrica tonino lamborghini il suo potente motore da 2400 watt e la lunga lama da 40 centimetri vi permetteranno di tagliare qualsiasi cosa non importa quanto sia spesso ha una catena antivibrazione che permette di avere un maggiore controllo e padronanza di questo dispositivo in un batter d'occhio ha un freno a inerzia incorporato nel caso si verifichino dei contrattempi numero 1 il marchio preferito da molti professionisti non poteva mancare nella nostra lista e con questo modello la motosega a batteria viene reinventata per darvi più autonomia quasi tre ore di fila oltre a una maggiore libertà di utilizzo può tagliare ad una velocità di 4,3 metri al secondo rompendo facilmente qualsiasi legno legna da ardere fino a 25 centimetri di spessore ha un freno di emergenza a catena per fermarsi quando serve il caricabatterie è incluso il caricabatterie è così